Un anno fa la convenzione con la provincia di Pescara, proprietaria dell'immobile. Ieri sera l'annuncio che entro la fine del 2024 l'ex colonia Stella Maris di Montesilvano, opportunamente riqualificata internamente ed esternamente grazie al milione di euro stanziato, diventerà un polo universitario. A rivelarlo è stato il professor Liborio Stupia, rettore dell'adannunzio Chieti Pescara, intervenuto all'anteprima spettacolo della Notte Europea dei ricercatori che questa sera avrà il suo clou al campus di Chieti. Rettore ha detto sul palco poco fa l'università d'annunzio a terra a Montesilvano. Sì, mi sarebbe venuto l'istintivo di dire sbarca, ma in realtà visto che è un aeroplano a terra mi sembra più giusto e sono felice come rettore e come cittadino di Montesilvano. Questa struttura io vivo qui da 30 anni, l'ho sempre vista tristemente abbandonata. Adesso in realtà i lavori cominceranno tra poco, ci vorrà il tempo. Anno nuovo? Anno nuovo sì, sicuramente. Io penso che per la fine del 2024 chiuderemo, salvo imprevisti. Ci sarà un museo del mare interattivo, metaverso, un museo dell'intelligenza artificiale che sarà molto bello per i più piccoli per capire come funziona l'intelligenza artificiale e il robot. Poi ci sarà una foresteria per ospitare ospiti stranieri che ovviamente saranno felicissimi di venire in riva al mare, delle aule per didattica avanzata di terzo livello, master, corsi di formazione e degli studi per portare avanti ricerche sulla sostenibilità ambientale. Quindi non ci saranno veri e propri laboratori con macchinari perché abbiamo ritenuto che la sede si prestasse di più qualcosa di più aperto e più interattivo con la popolazione. Altro protagonista della serata, Gio Di Tonno, Montesilmanese Doc, che insieme ai colleghi Graziano Galatone e Vittorio Matteucci hanno aglietato la serata con le loro Canzoni per sempre. Canzoni per sempre è un viaggio nella musica italiana e non solo ed è il pretesto soprattutto per raccontare una grande amicizia, quella che lega a me, a Graziano Galatone e Vittorio Matteucci che sono due grandi colleghi con cui ho condiviso il palcoscenico di Notre Dame de Paris, Promessi Sposi e tante altre avventure. e quindi abbiamo voglia di raccontarci, di farlo in musica cercando di emozionare e divertire il pubblico. Io adesso ormai sono tornato a vivere qui da più di dieci anni dopo un periodo a Roma, sono felicissimo ma soprattutto sono felice di questo riscontro che sento quotidianamente, questo calore, questo affetto nei miei confronti, devo dire che mi fa molto piacere, cantare nella mia terra, è ovvio, insomma sarei banale, retorico ma ha sempre un valore aggiunto. mi piace perché poi le persone qui che non mi vedono molto in televisione, facendo molto più teatro, dico ma questo che fa, non canta più, eccetera. Allora ogni tanto mi faccio vedere per fargli capire che sono vivo e vege. Chiusura con la professoressa Elisabetta Di Mauro, già proiettata all'appuntamento di questa sera. Devo dire che abbiamo cercato di introdurre ancora di più gli studenti all'interno della notte perché li abbiamo coinvolti, infatti il primo spettacolo partirà proprio dagli studenti, quindi la prima attività sul palco centrale abbiamo voluta darla agli studenti e apriranno con uno spettacolo teatrale nei loro laboratori che fanno all'interno delle loro attività, insomma curriculari, e quindi partirà così la notte dei ricercatori, ed è un'attività degli studenti. Grazie.